Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Video acquisti, videogames, retro games del mese di novembre No, del mese di ottobre, che di novembre? Poi arriveranno anche quelli di novembre e di dicembre Purtroppo con fortissimo ritardo, lo vedrete a dicembre Io lo sto registrando a fine novembre, il 29 novembre Lo vedrete a dicembre, però vabbè lo sapete come funziona così Vi dico che faccio una cosa, poi la faccio dopo due mesi O magari anche dopo due giorni, dipende In questo caso dopo due mesi, però comunque la faccio Quindi meglio tardi che mai Poi vedrete anche i video acquisti di novembre e di dicembre Non so quando, ma lo vedrete Comunque partiamo con i videogiochi che ho acquistato nel mese di ottobre E partiamo con Demon X Machina Si pronuncia così? Boh, non lo so Comunque un videogioco per Switch, un'esclusiva per Switch Questo gioco non è uscito su altre piattaforme Eccolo qua Un buon acquisto, 11 euro Dai ci sta, ci sta tutto E ovviamente faremo gameplay e recensione appena possibile Poi vi sparo una serie di giochi per session 4 The Witcher, che stiamo già giocando Tra l'altro ho fatto anche il primo gameplay E quindi lo stiamo già giocando The Witcher, eccolo qua Lo faccio vedere anche dentro Eccolo qui Spettacolo assoluto, uno dei giochi più belli usciti per PlayStation 4 E non solo, molto probabilmente Poi abbiamo Avengers Eccolo qua Anche questo è un gioco molto, molto, molto bello E di tutto ciò che vedrete Prima o poi faremo recensione E faremo anche i gameplay Giocheremo insieme al gioco E lo finiremo tutto quanto Come abbiamo fatto per esempio per Call of Duty World at War 2 Ossia Seconda Guerra Mondiale Poi Hitman Eccolo qua Altro giocone Un classico Hitman L'assassino per eccellenza Hitman 2 Eccolo qua Poi un gioco che è ridotto in maniera pessima Infatti questo lo ricomprerò Però l'ho pagato 3 euro Quindi alla fine l'ho preso L'ho preso così Intanto ci gioco E poi lo ricomprerò per metterlo in collezione Ghost of Tsushima O Tsushima Che dir si voglia Ecco qua Questi PlayStation 4 li vedete con le scritte in francesi Perché ovviamente l'ho preso in Francia Quindi non poteva essere altrimenti Poi Retro Game Retro Game Partiamo con WWE All Stars per Wii Eccolo qua Ma questo è in italiano Eccolo qua Sto recuperando tutti i giochi del wrestling Che sono usciti su tutte le piattaforme Essendo un grandissimo fan di wrestling Ho anche un canale che parla solo di wrestling Prima c'era una playlist qui su The Golden Eagle Adesso ho deciso di creare un canale apposta Che parla solo di wrestling WWE All Elite Le varie indie Impact e tutto quanto Documentari Speciali Recensioni News E tanto tanto altro ancora Trovate il link in the box di ipro ring Come di tutti gli altri canali Che ho Che trattano varie tematiche Diverse Da quelle ovviamente trattate qui Su The Golden Eagle Comunque eccolo qua Vi faccio vedere anche l'interno Completo di tutto Completo di tutto Anche del mitico libricino Che purtroppo non mettono più Nei giochi moderni Eccolo qua Vi faccio dare una rapida occhiata Eccolo qui Ultimo pezzo di questo unboxing Davvero un bel pezzo Pagato 10 euro Impara con Pokémon Avventura tra i tasti Guardate un po' C'è proprio la tastiera Dentro c'è il gioco Tastiera Ora vi faccio vedere Gioco assolutamente particolare Nel suo genere Qua vedete Tutto incartato È nuovo Nuovo di zecca Questo è il gioco Eccolo qua È per Nintendo DS Eccolo qua E qui c'è la tastiera Che ora vi mostro Una semplice tastiera Non è brandizzata Pokémon o quant'altro Se la riesco a tirare fuori Ve la faccio vedere Eccola qua Dietro però c'è scritto all'interno Quanto meno Tutta bianca Molto molto carina Eccola qua E poi qui Che altro c'è Vediamo un po' Che cos'è sta robetta Che distallo Credo Non so che cosa sia Fatemelo sapere nei commenti Se Se sapete cosa sia Comunque dai Un buon Un buon mese di ottobre È stato per gli acquisti Videoludici Poi sul canale Trovate anche video Sulle calze di Yu-Gi-Oh Pokémon Calcio Trovate video Sugli anime Quindi vi racconto Le curiosità La storia dei cartoni animati Vi racconto Trovate i gameplay Dei videogames PlayStation 4 Interno switch Xbox Retro gaming Giochi per smartphone Poi trovate Gli unboxing Delle sorpresine Delle action figure Del presente Del passato E pure del futuro Perché qua Sorpresine action figure Arrivano tutte le serie Che escono Tutte Poi ci sono le news Sul collezionismo Poi ci sono i video Sulle serie tv Sui film E su tanto Tanto altro ancora Ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un bel mi piace A questo video Commentate questo video Condividete questo video Seguitemi anche Sugli altri social Ed iscrivetevi Anche ai miei altri Canali youtube Trovate tutti i link In the box E noi Come al solito Ci Becchiamo Al prossimo video Ciao belli Ciao belli Ciao belli